ciao a tutti ragazzi da nicola castiglione dalla selezione nazionale piloti e benvenuti a un nuovo appuntamento con racing time il tg dei motori che oggi inizia con una buona notizia ovvero la vittoria di pecco bagnaia nella gara sprint alla red bull ring per quello che è il gran premio d'austria della moto gp ha vinto con un buon margine bagnaia su binder martin marquez miller e spargarò a lesce spargarò pilota aprilia un altro pilota aprilia marverick vignales che partiva in prima fila ma è partito male ed è stato costretto a rimontare dopo una carambola che tra un attimo vi faccio vedere alla prima curva e poi francesco morbi franco morbidelli la carambola in questione questa che ha visto diversi piloti coinvolti tra cui anche quarta raro quattro piloti si toccano due cadono uno di questi all'estrema sinistra e bezzecchi che ha rischiato veramente tanto ragazzi perché l'altro pilota ufficiale ducati come potete vedere andava verso di lui ha dovuto fare una sorta di slalom per non prendergli le gambe quindi fortunatissima potersi rialzare ripartire e portare la moto ai box perché comunque era danneggiata per quel che riguarda la gara di bagnaia possiamo dire che è diventato uno specialista delle gare sprint perché ragazzi è lì che le vince quasi tutte vero è che c'è una cosa che mi preoccupa un po ovvero ha portato la moto al traguardo con la gomma posteriore praticamente finita cosa che non avevano le due aprilia soprattutto quella di vignales e neanche binder aveva una gomma in uno stato migliore però ha vinto con due secondi di distacco questo che cosa vuol dire che dopo la partenza ha iniziato a tirare 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 essendo ben consapevole che comunque le gomme non dovevano durare per tutto l'arco del gran premio vedremo domani come andrà la gestione pneumatici nella gara più lunga poi andiamo avanti con le notizie e passiamo dalle due alle quattro ruote perché vi voglio fare vedere due date ovvero che aprono un po il discorso che stiamo per fare ovvero quella del 29 ottobre per quel che riguarda il calendario della formula 1 che vede il gran premio del messico si deve disputare il gran premio del messico stessa gara per il super formula giapponese cioè per l'ultima prova del super formula giapponese tra l'altro quindi un doppio appuntamento che va ad assegnare 28 e 29 il titolo di super formula giapponese chi ci corre in super formula giapponese l'attuale e unico pilota dopo che ricciardo è passato in alfa tauri pilota di riserva di red bull e alfa tauri appunto liam lawson stavo dicendo appunto l'attuale pilota di riserva della red bull liam lawson questo perché perché ricciardo appunto ormai è pilota titolare dell'alfa tauri e come si fa liam lawson è lì che deve correre in super formula deve disputare l'appuntamento finale quindi chi rimane in red bull che può guidare nel caso dovesse servire perché non si sa mai best appen perez ricciardo sunoda potrebbero saltare il gran premio per qualunque tipo di motivo ne speriamo di no ovviamente ebbene l'unico pilota disponibile che ha la red bull e lui liam lawson a meno che non richiamino nick de bris al quale udito dite con grande stile è stato chiesto essendo lui sotto contratto fino al termine del 2023 di non firmare nessun contratto che lo vede impegnato perché appunto può essere richiamato in qualità di pilota di riserva ora a parte che questa cosa non mi piace perché di solito vedi un attimino toto wolf quando i propri piloti hanno una chance di proseguire nella carriera non solo in formula 1 li lasciano liberi e nick de bris una chance ce l'ha perché sta ritrattando il suo rientro nel mondiale di formula e dove un professionista pagato ha già vinto il mondiale lì e però questa cosa qui gli metterebbe un attimino i bastoni tra le ruote quindi vediamo come va a finire perché potrebbe anche rinunciare al guidare in messico de bris però tutto ciò come dire vorrebbe dire scissione del contratto immediata e quindi nessuna possibilità di guidare una formula 1 marchiata red bull in futuro e abbiamo visto come in realtà red bull tende a volte a richiamare i piloti l'ho fatto con gasli l'ho fatto con album l'ho fatto con tantissimi piloti l'ho fatto con ricciardo sono curioso di sapere cosa fareste voi al posto di nick de bris io vi dico cosa farei personalmente andrei a firmare tranquillamente un contratto che mi vede pilota professionista anche in un'altra categoria e rinuncerei a guidare in messico e anche in futuro per un team che mi ha praticamente accompagnato alla porta prima della scadenza naturale del mio contratto io perlomeno farei così passiamo a un altro argomento ovvero quello della vendita dei biglietti per il gran premio di monza molti di voi mi hanno chiesto dove si possono acquistare se e quali sconti ci sono se sono previsti altri altre vendite in blocco di biglietti scontati come quella che c'è stata se non erro il 15 di agosto per lo meno l'ho vista pubblicizzata su instagram proprio dal credo della pagina ufficiale della del gran premio di monza ebbene io che cosa ho fatto innanzitutto vi dico dove si possono acquistare i biglietti ecco qui presso il sito ufficiale dell'autodromo di monza monzanet.it poi su ticket one su formula 1.com e poi ovviamente nei vari punti vendita che ci sono nei pressi dell'autodromo e questo è uno poi per quel che riguarda le scontistiche ho chiesto direttamente informazione all'ente autodromo e sto aspettando che mi vengano date in modo da potervele girare sia come post che in un video dove appunto parlerò della risposta che mi hanno dato perché onestamente non so se ci saranno più dei biglietti scontatissimi come la promozione che credo sia stata fatta il 15 o il 16 di agosto un'altra cosa come stanno andando le vendite allora per quel che riguarda la domenica e per quel che riguarda le tribune abbastanza bene diciamo che lì è stato fatto quasi il pienone male per quel che riguarda venerdì e sabato perlomeno fino a qualche giorno fa poi per quel che riguarda i biglietti prato ancora ce ne sono tantissime ci sono tantissime disponibilità così come ci sono disponibilità per le tribune secondarie sia per quel che riguarda le prove libere che le qualifiche che la giornata di gara della domenica questo è quanto non appena l'autodromo mi risponderà vi girerò volentieri la risposta che mi hanno dato andiamo avanti con la puntata di oggi parliamo un attimino di tecnica di guida perché ho ricevuto un po' di messaggi e commenti dove mi veniva chiesto un approfondimento su quella che era la tecnica di guida nella prima parte di curva di airton senna e allora iniziamo subito perché non si deve far confusione con i vari video che ci stanno dove si vedono i piloti impegnati a guidare un kart monomarcia che di solito dico di solito perché c'è stata una breve parentesi regolamentare hanno i freni solo sull'asse posteriore e quindi che cosa succede appena pestano un po più forte del dovuto anche se hanno pista gommata e gomme morbidissime bloccano al posteriore per un attimo e fanno questo ok questo è un discorso ma non si deve fare confusione con la tecnica che utilizzava senna e poi molti piloti dopo di lui se ci fate caso qui notiamo immediatamente che le gomme anteriori sono il leggero contro sterzo rispetto all'andamento della curva e anche la razza centrale del volante è leggermente girata da questo lato indice che appunto airton qui sta contro sterzando voglio spiegare un pochino meglio questa tecnica che è molto difficile allora che cosa si fa si arriva in curva si frena in quel tempo non c'erano le gomme morbidissime quindi questa tecnica di guida era uno più semplice innescarla due un po più difficile gestirla perché la sbandata durava tanto e allora si va a contro sterzare per un lungo periodo non è questa correzione qua ma proprio un lungo contro sterzo e l'apertura del posteriore udite udite si regola con il gas perché che cosa si fa se c'è troppo apertura e airton faceva questo si va a dare un po di gas in inserimento di curva che tende a sbloccare le ruote posteriori diventa una sorta di abs le fa girare e quindi tende a chiudere un po' l'apertura della sbandata quindi l'apertura del posteriore ed è proprio il pilota che va a decidere quanto il posteriore bisogna cioè si deve aprire rispetto alla curva spero di come dire essere stato chiaro si frena si bloccano le ruote posteriori si va al contro sterzo se l'apertura del posteriore è troppo si apre un po il gas in modo da dare grip alle ruote posteriori e richiudere quella che è una sbandata troppo pronunciata questa era la tecnica che faceva allora airton che altri piloti dopo di lui hanno fatto soprattutto quando non c'era l'epoca delle gomme morbidissime in kart ma che non ha nulla a che vedere con un sorpasso dove viene fatto questo che è una cosa naturale perché quando tupesti forte in tutti i mezzi che hanno il freno solo il posteriore si va a bloccare appunto il posteriore poi andiamo avanti perché oggi voglio presentarvi ragazzi la puntata non è finita qua ancora c'è un bel po' di cui discutere voglio presentarvi un pilota dell'sn2 light lui si chiama fabbio fusco uno dei miei piloti viene dalla bergamasca ed è un altro di quelli veramente promettenti che si sta giocando il titolo in sn2 light e che come dire ha veramente le carte in regola per avviarsi a una bella carriera lui ha iniziato praticamente da zero con i nostri talent si è piazzato bene ha iniziato a correre con noi e devo dire che sta facendo veramente una stagione in netta in netto crescendo priva di errori priva di errori perché finora ti ho visto commettere veramente pochissimi errori quindi bravo fabio fusco e voglio vedere come ti comporterai in finale che ci sarà a giorni poi guardatevi questo video guardate un attimino è di che cosa si tratta sono gli ultimi test che il team ganasse il team peschi hanno fatto con i rispettivi piloti di punta c'erano a guidare dixon e willpower e per quel che riguarda la più ibrida che il prossimo anno correrà nel mondiale di formula indy perché ragazzi è a tutti gli effetti un mondiale quindi sì come dire anche in america vanno sempre più verso questo tipo di tecnologia addirittura stanno riuscendo a contenere tantissimo il peso e un'altra cosa che stanno facendo è quella che probabilmente grazie all'utilizzo di questa parte elettrica del motore il prossimo anno l'utilizzo del push to pass verrà cambiato in maniera anche abbastanza radicale passiamo infine ai commenti dei video di ieri dei due abbiamo nel primo video la poll di francesco zito abbiamo stefano conto salvo slide giuseppe sorrenti bot cct e carmelo fumi poi abbiamo ancora michele tir kebab e francesco questi i ragazzi che ringrazio e saluto per i loro commenti cioè i primi e quelli più di tendenza nel secondo video abbiamo la poll di christian viaggiotti matteo 84 52 francesco zito case 90 15 salvo giandinoto e vincenzo nicoletti questi i più veloci poi abbiamo quelli di tendenza user vincenzo vitiello salvo slide kebab vincenzo ancora antonio apruzzese e di nuovo vincenzo vitiello questi i commenti infine voglio rispondere a un messaggio ve lo faccio vedere in sovraimpressione artemio ci chiede se gli stipendi dei piloti sono a budget cap assolutamente no gli stipendi ai piloti non sono a budget cap poi i tre top manager di ogni team non sono a budget cap ed infine ragazzi anche le spese per i motori non vanno nel budget cap che tutti conosciamo ma ne hanno uno parallelo molto meno noto di cui si parla molto di meno però appunto se si rompe un motore quella spesa non va a interferire col budget cap di cui appunto tutti parlano e di cui tutti vogliono venire a conoscenza per quel che riguarda la stagione 2022 quindi aspettiamo bene ragazzi anche questa puntata termina qui se vi è piaciuto lasciate un like un commento condividete il video sui vostri social attivate la campanellina iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e datemi una mano con il canale dedicato ai bambini quello di yellow ski da nicola castiglione dalla selezione nazionale piloti è tutto anche per oggi vi mando un bacio se vi state chiedendo se ci sarà la seconda puntata di oggi solo se salteranno fuori contenuti adeguati in realtà c'ho una puntata tecnica che devo farvi da un po anzi due però devo avere il tempo di imbastirla e oggi proprio non ce l'ho bacio a tutti ciao